bella ragazzi sono sempre io quando e oggi c'è un video un po' particolare, un po' serbi oggi siamo su un gioco che mi sono appena arrivato da poco, questo lo vedete già bella ragazzi sono sempre io quando e oggi c'è di bucine, un video un po' particolare oggi siamo su un gioco che mi sono appena arrivato da poco, è chiamato questo, lo vedete già quindi faranno Outlast Trials, è un meno male che una demo, meno male, come al solito le demo durano tipo 5 minuti, 10, 20, come al solito le demo durano tipo 5 minuti, 10, 20, tipo un po' Grazie a tutti. 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 Rodrigo, svegliati. Rodrigo, devi svegliarti. Rodrigo, dobbiamo andare. Svegliati. 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 Dai, svegliati. Rodrigo! Svegliati. Svegliati, Rodrigo. Svegliati. Rodrigo, dobbiamo andare. Ah, non so, ok. No, non mi hanno troppanato, mi hanno messo sto posto. Ho già confuso in muove. Ok. Oh, mi ame. Buono, simpatico, salto. Chiusa. Allora, le spiaccine non chiudo, forza. Ah, non so, perché. No, non mi hanno troppanato, mi hanno messo sto posto. Ma che bel posto! Molto il cattivo, io devo dire. La vera il cattivo, io devo dire. La vera il cattivo, io devo dire. Ma che bel posto! Molto il cattivo. No, 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 no. La vera il cattivo, no. Va, non lo faccio. Non so, non so, non. Non, non o, non, non sì. Non so, non… Non so solo, non... Non, non no, non sì. Non, 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 non no. wai, veramenteНо. Buono, ma hogy tanto. Non soja, non è… Non va. You, mi, mi — Fai bene no 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 non guardate qui, non guardate a me innamorato, non guardate, non guardate qui vai il t'attere, non guardate qui il suo non 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 Grazie a tutti. 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 e e si è no ma non è un lusso aspetto ieri per fuoco non so farvi via teo a testo Vabbè ragazzi, no, cercherò di portare più tempo possibili, cercherò di portare più tempo possibili perché so che due erano le giorni, ieri davvero questa vetta, oggi io l'ho giocata, cercherò di portare più tempo possibili, C'erano tutti i giorni perché ieri davvero questa notte aperta, oggi io l'ho giocata e noi si vediamo, vi porterò qualche video, non ci saranno molti video perché è beta e poi la beta più tempo, quindi cercherò di portare più tempo possibili